Sarà sfida infuocata a quella che contrappone a Dimola la Bondi-Ferrara. Un altro derby per cabine ragazzi reducì dalla vittoria su Forlì in una sfida che vede l'Andrea Costa in acque tranquille con 16 punti, due in più degli emigliani. Rispetto a iniziando siamo migliorati molto e abbiamo fatto un buon girone d'andata, ma detto ciò non dobbiamo accontentarci di quanto fatto finora e continuare la nostra crescita pensando partita dopo partita e poi tireremo le somme. L'esterno classe 1999 ha collezionato fino ad ora 11 apparizioni per 47 minuti totali e 9 punti realizzati. Un processo di crescita e maturazione importanti alla prima stagione in Serie A2. Sto lavorando molto per cercare di farmi trovare pronto, sicuramente il salto fatto in A2 è stato un salto molto importante e ho sicuramente imparato tanto, ma ho altre tante cose da imparare. Prossimo appuntamento domenica 21 alle 18 contro una Ferrari in crisi al Palasport. Un Ferrari che viene da una situazione un po' così dovuta a delle sconfitte e al cambio dell'allenatore, ma questo per me non cambia nulla, dobbiamo andare lì e scendere in campo con la stessa energia e intensità messa in campo nelle partite precedenti per riuscire a portarla a casa.